FEDERICO MAI Perciò lo chiamano il vampiro. Tu che frequenti il mondo dei vivi, dammi un polso della situazione. Io sono pazzo. Fermare il tempo è impossibile. Allora la bruciarete? Cosa ti importa se la bruciamo? Non ho voluto. Non ho voluto. Avvicinati, Benedetta. Non ho voluto. Non ho voluto. Non ho voluto. Sì. Grazie a tutti.